Riprendiamo il circuito con tre impedenze in parallelo, equivalente a una singola impedenza Zp, per vedere che relazioni ci sono fra le correnti 1, 2 e 3 e la corrente totale e trovare una formula conveniente per i nostri calcoli. Esprimiamo la tensione ai capi di Zp con la legge di Ohm generalizzata, quindi V sarà uguale a I per Zp, oppure la posso riscrivere ricordandoci che l'ammettenza è l'inverso dell'impedenza come I fratto Yp, dove sappiamo che l'ammettenza del parallelo è data dalla somma delle singole ammettenze delle impedenze in parallelo, quindi I fratto Y1 più Y2 più Y3. Andiamo a determinare le tre correnti nei tre rami, utilizzando sempre la legge di Ohm generalizzata. Avremo che I con 1 sarà uguale a V diviso la Z con 1, oppure utilizzando l'ammettenza sarà uguale a V per Y1. Quindi se sostituiamo la tensione scritta sopra in questa espressione, possiamo scrivere I che moltiplica Y1 fratto la somma di tutte le ammettenze Y1 più Y2 più Y3. Tutti numeri complessi. questa espressione la ritroviamo ovviamente per ogni corrente nel rispettivo ramo, quindi andando direttamente a riscrivere il risultato avremo che l'espressione rimane la stessa ma il numeratore della frazione sarà per la I2 avrà la Y2 mentre il resto dell'espressione rimane la stessa e per la I3 dovremo semplicemente mettere a numeratore, allineiamo correttamente l'espressione, I3 sarà uguale a I e a numeratore, dicevo, avremo l'ammettenza Y3. Il denominatore è sempre la somma delle tre ammettenze. Vediamo quindi che nell'espressione di I1 troviamo la Y1 a numeratore, abbiamo detto, nell'espressione di I2 troviamo la Y2 a numeratore, nell'espressione della I3 avremo Y3 a numeratore mentre le altre parti dell'espressione sono costanti in tutte e 3 le formule che ci consentono il calcolo della corrente. In questo modo abbiamo individuato una semplice regola generale dove in un generico circuito con un numero qualunque K diciamo di impedenze in parallelo abbiamo che la corrente in un certo ramo N in cui è presente l'ammettenza YN sarà data dal prodotto della corrente I per l'ammettenza del ramo dove stiamo calcolando la corrente YN fratto la somma di tutte le K ammettenze quindi da Y1 più Y2 eccetera eccetera fino all'ultima ammettenza YK quindi possiamo evidenziare questa formula di utilità che rappresenta appunto la formula del partitore di corrente quindi abbiamo per ricordarla facilmente abbiamo che l'indice della corrente che stiamo calcolando è uguale all'indice dell'ammettenza che abbiamo numeratore e questa come detto è la formula di utilità che prende il nome di partitore di corrente 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 Grazie.